Una Cuba senza i Castro. La svolta epocale è arrivata questo venerdì quando Raúl ha annunciato le sue dimissioni dal partito comunista, ponendo fine a un'era di leadership che ha avuto inizio con suo fratello Fidel nella rivoluzione del 59. L'89enne Castro ha dato l'annuncio all'apertura dell'ottavo congresso del partito, l'unico autorizzato a operare sull'isola. Per quanto mi riguarda il mio compito di primo segretario del comitato centrale del partito comunista di Cuba, si conclude con la soddisfazione di averlo adempiuto e la fiducia nel futuro della patria. Finché vivrò sarò pronto con il piede sulla staffa per difendere il paese, la rivoluzione e il socialismo con più forza che mai. Gridiamo viva Cuba libera, viva Fidel, patria o morte. Le dimissioni arrivano in un momento molto difficile per l'isola. La pandemia di coronavirus, le dolorose riforme finanziarie e le restrizioni imposte dall'amministrazione Trump hanno messo a dura prova l'economia cubana. Spero che con il congresso del partito le cose migliorino perché i prezzi sono molto alti e i salari sono aumentati ma il problema resta perché i soldi non bastano. Forse per questo il presidente Dias Canella ha accelerato sul piano approvato nel sesto congresso per unificare il sistema di doppia valuta dell'isola, ampliando inoltre la gamma di imprese private autorizzate ad operare. Grazie. Grazie. Grazie.